La Ferrari nella figura del suo fondatore Enzo sbarca a Hollywood. Michael Mann dirigerà un film biografico sull'inventore delle auto italiane più famose al mondo. Il biopic sarà tratto dal libro del 1991 Enzo Ferrari The Man, The Cars, The Races, scritto da Brick Yates. La pellicola sarà prodotta da Cechigori Media e Mann è già al lavoro sulla sceneggiatura. Il regista è un volto noto a Hollywood avendo diretto capolavori del calibro di hit La Sfida con Robert De Niro e Al Pacino e Collateral con Tom Cruise e Jamie Foxx fra gli altri. Il progetto di un film su Enzo Ferrari è in lavorazione a Hollywood da almeno un decennio. In passato sono stati accostati al film anche Sidney Pollack e lo stesso Al Pacino. Ma ora pare certo che sarà Michael Mann a dirigerlo, lavorando su uno script preparato da Toroi Kennedy Martin conosciuto per il film The Italian Job.